ciao ragazzi questo è il 38 oggi userò gli stati uniti d'america così in amicizia prima 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 i russi poi gli stati uniti c'è manca solo che usi gli inglesi noi giapponesi io voglio i giapponesi con il cilu lato ma ce l'ha ce l'hanno i giapponesi ci 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 sono a cerano ce ne hanno messi e che prima tenevano solo ieri cat armati di aspetta anche la svezia dove sono i carri svizzeri dove lo faccio vedere lo sblocca il caso svizzera immagino tipo non lo so una t a t o qualsiasi quindi tu dici quella croce bianca deve diventare verde quando ha mirato qualcuno si vede economie di poi diventa rosso c'è un punto critico da colpire armato verde ma rosso e punto critico verde invece lo colpisce e per questo quando ho preso sparato rosso colpisci verde anche sì non mi ricordo io quello spado rosso fatto una chitto di claquilla ma io non vedo da detta sono dietro di te oddio scusa non vi accoppiate voi due errori miei errori miei passi 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 prima tutta ma che cosa sta l'ingrano no non è una città non so sarà oltre in olanda non mi piace l'ho troppo drasticamente c'è se io uso questo volo praticamente lo strato posto spettacolo sì forse si vede parola che cannonata che ha fatto quello da i cannonati in un gioco di carri armati mi ha pensato c'è la proposta di infezion io so guidare ho una patente ricordiamoci le forze nemiche hanno conquistato una zona le forze nemiche hanno conquistato una zona o cos'altro guarda che bello ho schiacciato tutte le macchine le forze nemiche hanno conquistato una zona che cacchio non stanno conquistando tutti sono dei conquistadores stanno colonizzati colonizzando e non riesco a guidare ok ok questo posto è posto l'interno l'amore ho rotto un indirante scusatemi non volevo io volevo seguire al diktator volo diktator non so che fine sta facendo no madonna che cannonata che cos'è un bombardiere no si è schiettato proprio vabbè vabbè andiamo sul pesante era stato un kamikaze si madonna molto malissimo nooo dai maledetto capo mio minchia un po' ludo dupo con quello schifo tu e ma come sei morto ma così devi fare lavoro di squadra, non so perchè ho rotto una scatoletta dobbiamo uccidere quel KB1 maledetto aspetta che io vado da dictator che può essere granato scappa scappa bomba 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 retromarcia retromarcia proprio ma no ma ci siamo scambiati la morte a vicenda no ma no era un altro KB1 ma che KB1 ci sono siete morti tutte e due io sono morto si però secondo me mi ha ucciso l'aereo forse con la bomba no no la bomba era appiancata a te proprio malissimo guarda guarda che bello che è da sto Savoia Marchetti del cavolo che sta gironzolando a lanciare ste bombe è iniziato che non ti ha perso oddio ma c'è un caro armare dietro di me un M maledetto Savoia Marchetti ma l'ho sgamato volevo fare il culpo colpito però non devo scappare sono nemica brutta muore maledetto ah si è ancora vivo aia sei vivo Dictato? si si sono vivo però c'è c'è questo Savoia Marchetti che ci sta mettendo in croce qua con le bombe eh ma ecco ecco tu hai fatto facendo punti Dictato tu puoi rispottare ma no ma i colpi rimbalzano rimbalzano attenzione attenzione colpito ai cingoli c'è un caro armare davanti a noi vedi se ne è scappato io sono morto è il da piangere prendita la mia morte via 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 no alle spalle Dictator alle spalle eh vabbè l'ho preso eh vabbè l'ho preso ma sicuro vediamo lo screen al finale che cos'è io mi vieto ti sento la mia cosa ma hai scappato c'è ma hai scappato più uno come cazzo lo faccio il cappato prima a buttare con questo cioè ci rendiamo o no? eh ma infatti questo forse è l'unica pecca di sto gioco che sono tutti a livelli alti e piccoli e questo è grave perché dovrebbe fare un equilibrio io l'ho fatto con coso la io avrei dovuto cioè io ne ho buttato giù uno con lo stug è solo che erano tutti vicini cioè il tempo che ci ho messo per buttarne giù uno un altro mi ha colpito quindi proprio nessuna pietà pazzo sono tre io sono sempre il numero tre queste mappe di combattimento ravvicinato urbano sono molto disastrose perché comunque il combattimento urbano per i carri armati è una fregatura io sono pronto aspettate raga voglio ricercare qualcosina sto carro perché effettivamente io sono pronto guardate cosa scelta sei pronto a morire di nuovo mamma mia è caricato retta ecco qua perché sinceramente sto carro c'è un brandeggio che fa fa schifo fa schifo ok guardate cosa ho scelto non lo so non ti vedi ho messo pronto sì chi è che non è pronto? no io anch'io ah ho preso la Svezia ok la Svezia come fate a vedere cosa ah sì c'è la bandierina ah perché pensa che la bandiera è riferito alla nazionalità del giocatore no no non avevo proprio notato la bandierina scelta ma sai in automatico di che nazione te sei quindi se sei dello zarbejjan ti mette la bandiera dello zarbejjan no giusto se nel cuore sei prussiano ti mette la bandiera prussiana ma comunque sto se invece sei nazista non ti mette niente perché la bandiera nazista è brutta più o meno ti mette l'aquila no no l'aquila no l'aquila italiana eccomi guardate il mio carro armato quanto è bello guarda quanto fumo ma che merda è quel coso? oddio che è quella cosa lì piccolissimo cos'è quella merda è peggio dell'm13 italiano che cos'è? guarda che roba è letteralmente una cioppeca tipo carro armato cioppeca versione più è vero che so velocissimo ma ragazzi però non fate ste cose con i cararmati guarda io sono più veloce di lui ma tu hai capito che questo è più veloce del carro armato italiano? sì perché a te a te è un carro leggero perciò a me tecnicamente è un carro medio tecnicamente 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 ma io faccio i slalom qui ma questo è troppo veloce c'è incontro e incontro no quello di quello di delta quel 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 quella merda che si prende guarda i blocchi di edifici soggetti guarda i blocchi di edifici soggetti andrei la io attenzione ma perchè ti chiamo rex rex secondo te lo chiamare mannaggia me e perchè l'abitudine a giocare con rex madonna si no perchè domani dobbiamo fare let for dead tecnicamente capito quindi moes concentrato oddio la macchina di gianroberto e' un po' mi chiedi ne l'ha comprata in russia no no è una panda e' la panda di gianroberto e' una panda russa una panda da cibo sulla banda Tu mettiti in posizione Fidati che non sei Oddio di lato Sono appena muoriati Mi hanno sparato a vista Mi ha mancato Perché sono veloce Di lato che è il lato Allora Dove è la mappa Ok nord Praviene di fronte a te Ah non so lo vedo Sta là dietro Ok era lupista No no ecco qua per forno Ma non avrà perso tempo Madonna è morto un carro armato Affiancato malissimo Ma vabbiamo Ti sta per aggiungere Ripensare alla mia vita Uh caro armato Eh caro armato Aereo Via 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 fuochi da artiglieri Via 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 fuga Fuga quando ti ho scritto Mi sta per aggiungere un carro armato Che si chiama T-28 Apparente Ma do Con l'ho visto Oggi ho visto l'angolazione bellissima Beh che cavo Vabbè un proiettile vacante Tra virgolette Ti ho salvato Dictator Ringrazio No L'ho mancato Il demico sta vincendo Dobbiamo contattare Eh che dobbiamo Eh capite Che famo E dove sono i mici Dai Ti seguo Ti guardo a te Dictator Che si chiama I soul rook In questo gioco Però Stai a Ecco ciò C'è il lungo Un po' dietro Un po' più retromarcia Ancora 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 Vai indietro Perfetto Stai andando No c'ho il muro No 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 ce la fai ce la fai E ti sto guardando Ora puoi fare retromarcia ancora Perfetto Ma io non gli faccio niente a quei cari armati Dicente è un'invasione E' un'invasione E' un'invasione Io ero faccio niente a me Colpo critico ma non è morto Ma non è morto Ma non è morto Ma non è morto Lui un colpo molto malissimo Sentia Ora sei morto Io ti ho fatto colpo critico ma non è morto C'è brai C'hai da nati carri italiani Ha detto tutto è colpa degli italiani Ma dai colpo critico è uno scoop Che cacchia di veicolo è questo Il B Che cacchia è il BBB108 301 Che cacchia di veicolo Un po' di like Si chiama Tizio Ah ecco qua Comunque sei sopra il suo più allungo bravo Ma si ma il problema è che non Non ci faccio niente Cacchia di quello quello è il problema Eh vabbè però sai che Fai sempre il gioco di scuola Guarda che tu puoi punta anche durante Se campi di più Ma perché queste squadre ci trovano Perché la nostra squadra è formata Ma papà ti impedimi gli altri E' partito Vedi tu hai giocato bene Perché è tutto rigioco Vedi Stai rigiocando Io no Perché non ho giocato Ma io c'ho due carri armati Perciò sto rigiocando Tienelo subito Guarda che sono venuto lo spawn Guarda che sono venuto lo spawn Guarda che sono venuto lo spawn Stanno uccidendo la pietra Guarda che sono venuto Dovrei farmi piccare quelli che sono venuto E vabbè però dai Non è possibile C'è equipaggio morto Dai E beh ma è normale E vabbè ma che cazzo Ragazzi voi siete morti tutte e due? Io si Io sono morto malissimo davanti a te E però tu puoi Comunque puoi sfogliare gli altri veicoli Sono bellissimi Ci sta Un Flakpanzer Uno che è bellissimo Comunque si deve prendere molto la mano Oddio cos'è questo? E' un Lì tu dugo molto male però Si però posso dire che la nostra squadra fa schifo Guarda Guarda la situazione Cioè siamo entrati dentro una squadra del polizio Vai Pure il calarmato mio eh Non è che è stato grande un Eh però Però dai Pian piano impar- Anzi ma hai capito come Più o meno stai imparando Ho visto se ti sei in posizione Sparato Eh si 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 Vabbè ma quei non giocavo da parecchio Oh attenta sto No ma Attenta sto fumo Oddio arriva affazzoso Pum Non l'ho visto Ma come sai fa bello e bello quel fumo Maledetto Va bene ho ancora un altro eh Eh lo sappiamo eh Eh no ti ho subito una sconfitta Eh ma penso che le abbigli Oh beh No ma perché ci bechiamo queste squadre Di mezzo calcette Che non hanno mai La Ha 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 weiner ma scriverà che succede partire da lui gli viene il momento di hitler a caso tutto apposto